Com'è la sua relazione con il presidente Spagnolo Sánchez? È un'ottima relazione. Sul piano personale abbiamo costruito un rapporto di amicizia, abbiamo imparato a conoscerci meglio in questi anni e adesso sicuramente i nostri paesi ne beneficeranno perché stiamo costruendo, oltre alla tradizionale relazione commerciale, economica, culturale, stiamo rafforzando anche l'intesa politica. Hanno parlato molto durante la pandemia? Siamo sentiti varie volte, mi ha chiamato lui, l'ho chiamato io, ci siamo confrontati spesso. Che si hanno detto durante queste conversazioni? Ci siamo aggiornati ovviamente sulle rispettive situazioni dei rispettivi paesi, abbiamo espresso reciprocamente ovviamente il rammarico per le vittime che stavano crescendo di numero, sono cresciute di numero progressivamente sia in Spagna che in Italia. Ci siamo, abbiamo espresso un reciproco sentimento di solidarietà. Questo, i nostri popoli secondo me si sono ancora più avvicinati, avendo condiviso questo comune destino molto preoccupante, molto a tratti anche tragico. E quale compromesso si porta da Madrid per questo summit di Bruxelles che sembra che sia decisivo? Non dobbiamo parlare di compromesso, perché se vogliamo raggiungere un compromesso tra 27 paesi finirà che per raggiungere un punto comune, un comune denominatore abbasseremo sempre di più il livello della reazione, della risposta europea. Invece la risposta europea deve essere forte, solida, adeguata alle circostanze eccezionali che stiamo vivendo, deve essere ambiziosa sul piano politico, quindi non compromesso a ribasso, non compromesso di basso profilo, ma decisione politica ambiziosa. Però comunque da tanti anni che non si vedevano che non c'era un incontro bilaterale come questo tra il primo ministro italiano e il presidente spagnolo. Quindi adesso non so se c'è un'alleanza più forte tra l'Italia e la Spagna? Ma è per questo che ho raccolto con grande piacere l'invito che ho ricevuto dal presidente Sanchez, proprio perché erano alcuni anni che non c'era uno scambio di visite a livello di capi di governo e sicuramente abbiamo rafforzato questa amicizia, sicuramente abbiamo posto le basi anche per incrementare i nostri rapporti. Ci siamo detti ad esempio che entro fine dell'anno sarebbe bello poter celebrare un vertice intergovernativo in modo da poter affrontare con ampiezza di contenuti le prospettive di una più intensa collaborazione. E come definirebbe questo Recovery Fund europeo? Non so se lo considera un piano Marshall europeo. Sicuramente ha qualche assonanza, qualche tratto di similitudine col piano Marshall, nel senso che anche qui noi interveniamo con un piano ambizioso di ricostruzione dopo un evento tragico che ha creato grandissima sofferenza in termini di vittime, in termini anche di conseguenze negative sul piano economico e sociale. Però ovviamente il contesto storico è completamente diverso, anche quello politico. Noi oggi stiamo elaborando una risposta da noi stessi, europea, quindi non è più un piano che ci viene proposto dall'esterno, è un piano che stiamo elaborando noi perché dobbiamo essere consapevoli del momento che stiamo vivendo e dobbiamo coordinare gli sforzi tutti insieme per poterci riprendere e dare una prospettiva ancora più rafforzata alla stessa Unione Europea, alla nostra casa comune. Deve essere un piano ambizioso ma anche veloce, quindi si deve far subito? Credo che i tempi siano determinanti. Io mi batterò e su questo anche col Presidente Sanchez siamo d'accordo, ci batteremo perché si possa finalizzare questo negoziato già al prossimo vertice o comunque nel mese di luglio. Perché, attenzione, una risposta può essere adeguata sul piano anche non solo qualitativo ma quantitativo, ma se tardiamo diventa inadeguata. Rischiamo di dover moltiplicare gli sforzi economici e ovviamente con maggiore rischio di poter andare incontro a un insuccesso. Ecco perché dobbiamo assolutamente definire questo negoziato, tutti i Paesi devono essere messi in condizione già a settembre e comunque in autunno di elaborare e presentare un piano di riancio. L'Italia lo sta facendo, abbiamo come Governo già elaborato un piano di riancio, l'abbiamo condiviso con tutta la società italiana. Io per otto giorni dalle nove del mattino a mezzo, quasi a mezzanotte di sera ha incontrato 122 tra associazioni, sindacati, associazioni di categorie, personalità del mondo della cultura, dello spettacolo, singoli cittadini per condividere questo piano. È uno sforzo corale di tutta l'Italia in direzione degli investimenti, delle riforme strutturali di cui il Paese ha bisogno. Però per esempio il suo collega Mark Rutte, il primo ministro olandese, dice che non c'è fredda e lei adesso va a visitarlo, quindi cosa le dirà? Vi spiegherò che abbiamo fretta nell'interesse di tutti, non solo nell'interesse nostro, nell'interesse anche dell'Olanda, perché vedete più rischiamo di ritardare, dicevo prima, e più rischiamo di elaborare una risposta inefficace. Se noi lasciamo che si distrugga il mercato unico, se noi lasciamo che si distruggano le catene di valore e i nostri sistemi integrati, i danni saranno anche per l'Olanda, non solo per l'Italia, non solo per la Spagna, il Portogallo, la Francia, anche l'Olanda beneficia dal mercato unico, anche l'Olanda si avvale di questa economia unitaria, di questa economia europea. Quindi anche nel loro interesse è una reazione pronta e immediata. Parlando delle misure, comunque la Spagna ha preso tante misure economiche molto simili a quelle dell'Italia, però per esempio adesso il Presidente Sanchez sta parlando di abbassare le tasse e lei invece suggerisce di abbassarle. Quindi quale sarebbe la sua ricetta? Ma guardi, io non mi permetterei mai di valutare le ricette migliori per la Spagna. Lascio ovviamente all'amico Presidente Pedro Sanchez di poter con le forze politiche lavorare alla soluzione migliore. Ci si parla della sua ricetta per l'Italia. Per quanto riguarda l'Italia invece le posso dire questo. Abbiamo un problema in Italia che il fisco, la disciplina fiscale risale a 50 anni fa, la riforma più organica. Dopo sono stati tutti singoli interventi. Nel complesso abbiamo perso una visione d'assieme. Oggi la disciplina fiscale è iniqua, inefficace. Quindi dobbiamo intervenire per riformarla, digitalizzare tutto per innovare questa disciplina, per riordinarla tutta, perché abbiamo tante contribuzioni, agevolazioni, deduzioni. Dobbiamo riordinare questo carico e alla fine io sono convinto che quando andremo a intervenire in questa direzione, razionalizzando, potremo anche alleggerire, per quanto di ragione, la pressione fiscale. Ma per il cittadino avassare l'IVA è un'azione? Guardi, questa è una discussione che in Italia adesso c'è un grande dibattito, perché tra le varie misure che stiamo studiando, quelle più utili per far ripartire l'economia, c'è anche questa ipotesi. È un'ipotesi al momento. Io credo che, come dicono tantissimi economisti, la situazione di tale incertezza e le complicazioni sono così gravi che non c'è un'unica misura su cui puntare. Bisogna tanto puntare a sostenere la domanda quanto puntare a sostenere l'offerta. Quindi anche l'IVA può essere una soluzione. L'ipotesi migliore perché abbassare l'IVA è molto dispendioso. Abbassare l'IVA, come hanno fatto temporaneamente in Germania, richiede uno sforzo economico notevole. Può servire a far ripartire i consumi. Però secondo me un'ipotesi su cui stiamo lavorando, non abbiamo ancora deciso nulla, è quella di collegare un lieve abbassamento dell'IVA, se mai temporaneo, a pagamenti digitali. Chi paga con carta di credito o con moneta elettronica può beneficiare di un piccolo sconto. Questo incentiverebbe molto i pagamenti digitali con la conseguenza, ad esempio, che potremmo recuperare un'economia che in questo momento è anche in parte sommersa e allora arriveremo alla soluzione di prima. tutti pagano le tasse, tutti pagano meno. Parlando del MES, che so che no, le piace troppo questo discorso, però per esempio oggi Sanchez ha detto che non si possono creare degli strumenti e poi avere vergogna per utilizzarli. Quindi questo messaggio di Pedro Sanchez facilita un po' mettere questo discorso nel Parlamento, portare avanti questo discorso nel Parlamento italiano? Non è che ovviamente qui ogni Stato, ogni nazione deve a una propria opinione pubblica, alle forze politiche e al proprio Parlamento, quindi deve misurarsi, voglio dire, con le proprie forze. Ovviamente io non sto dicendo che a me non piace parlare di MES perché voglio fuggire alle responsabilità. Non è questione che non voglio affrontare il problema, è questione che affrontarlo adesso significherebbe fare una battaglia astratta. Addirittura può diventare l'Italia ideologica, ci sono delle opzioni ideologiche in Italia, c'è chi dice sì MES per principio, chi dice non MES per principio. Altri invece, come è il caso mio, ci manteniamo con un approccio molto pragmatico. A me interessa quel che serve alla comunità nazionale e ai cittadini. Un domani, quando avremo definito il negoziato, avremo gli strumenti su un tavolo, li studieremo uno per uno, aggiorneremo le valutazioni per quanto riguarda i flussi di cassa, per quanto riguarda il quadro della finanza pubblica italiana e io andrò in Parlamento e farò una proposta. Alla luce della situazione attuale che stiamo vivendo, io credo che queste sono le proposte e se nel caso ci sono alternative, proporrò delle alternative. Le discuterò con l'opinione pubblica, col Parlamento, in modo molto trasparente, come sono abituato a fare. Quindi non è più un tavolo. E mi assumerò la responsabilità di fare anche una proposta. Non è più un tavolo. Ma guardi, non è mai stato un tavolo. Semplicemente ho detto che noi non puntiamo sul MES, perché non è il MES la risoluzione dei nostri problemi. Occorre... Tra l'altro mi spingevano... c'erano alcune posizioni che spingevano ad accettare il MES nel momento in cui non avevamo ancora il recovery fund. Noi abbiamo bisogno di un recovery fund. Dopo, quando avremo definito questo, valuteremo se nell'interesse dell'Italia utilizzare anche il MES e ovviamente andremo in modo molto trasparente a valutare la regolamentazione del MES, cioè o meglio di questa nuova linea di credito. Parliamo del lockdown. Italia fu il primo paese che decretò il lockdown in Europa. Come fu per voi decretarlo? Qual fu il momento critico più difficile? Fu un momento direi anche molto drammatico, perché non era mai successo, dopo nella storia della vita repubblicana italiana, dopo la Seconda Guerra Mondiale, che fosse adottato un provvedimento del genere. Isolare 45 mila abitanti, 10 comuni nella Lombardia e un altro piccolo paesino nel Veneto. Mandare le camionette delle forze di polizia a cinturare questi paesi e da un momento all'altro dire che non potevano più muoversi e uscire dai loro comuni, dai loro andare fuori in altri paesi. È stato un momento molto drammatico anche perché ovviamente ha avuto implicazioni di diritto costituzionale, quindi implicazioni giuridiche, implicazioni economiche. Immaginate come fornire approvvigionamenti a queste persone, a questi abitanti, di ordine sociale. Ci saranno, rispetteranno le regole o no? Vorranno forzare questo blocco? È stata una decisione molto complessa, ovviamente l'abbiamo ponderata molto nel Consiglio dei Ministri e poi ci siamo assunti la responsabilità. In quel momento erano i primi focolai, abbiamo ritenuto che quella fosse la soluzione per cercare di contenere questi focolai. Poi purtroppo abbiamo scoperto che ormai il virus stava già correndo altrove, ma in quel momento era una soluzione adeguata a quelle circostanze e ovviamente come deve fare la politica, ci siamo assunti la responsabilità di questa decisione. Ha dormito poco in quei giorni? Beh, diciamo, quelle settimane, in quei mesi, ho dormito poco perché andavo a dormire tardi, ma ero così stanco che quelle poche ore dormivo. A Bergamo per esempio c'è anche un'inchiesta giudiziaria, la Confindustria è stata nominata come una ipotetica responsabile, lei anche ha dovuto parlare davanti al giudice, al pubblico ministero, quindi li preoccupa questa inchiesta? Guardi, io non mi preoccupo perché innanzitutto appena c'è stata questa eventualità di essere chiamato a riferire dei fatti a mia conoscenza mi sono subito reso disponibile. Io penso che un Presidente del Consiglio debba assumere decisioni sempre in trasparenza, debba rispondere alla propria coscienza, alla propria conoscenza, alle proprie conoscenze e debba poi essere sereno e affrontare sempre, rispondere in qualsiasi situazione di fronte all'opinione pubblica e in questo caso anche di fronte ai pubblici ministeri. Ma crede che c'è stato qualche errore, qualcosa che adesso pensa forse questo si poteva fare in un altro modo? Guardi, sinceramente io non credo di essere infallibile, ma lo dico in modo molto sincero, autentico. Quindi non credo di essere la persona che prende sempre la decisione giusta nel momento giusto. Però una cosa è certa, che anche per inclinazione caratteriale e temperamentale, quando prendo una decisione cerco sempre di valutare tutte le implicazioni. Quindi quando poi la prendo, in questo caso l'abbiamo presa insieme anche agli altri colleghi di governo, non prendiamo mai decisioni secondo un metodo, secondo una linea, con grande ponderazione. È difficile quindi di tornare sui propri passi o di dire oddio abbiamo sbagliato. Almeno qualche volta può accadere col senno del poi. Però di solito quando prendiamo le decisioni lo facciamo con grande ponderazione e non ha senso pensare di poter tornare indietro perché non c'è motivo. E su questo argomento le volevo chiedere sulla posizione della Confindustria. Si è parlato di questo pressing che ha fatto, quindi che c'è di certo. Ma per quanto riguarda sempre... A Bergamo. Ma io non ho avuto richieste della Confindustria. Quindi ho letto sui giornali, ma non è una cosa che mi riguarda. Le decisioni che abbiamo preso, quelle valutazioni, le abbiamo fatte senza ascoltare Confindustria. Assolutamente no. Adesso comunque non so se teme che questa situazione attuale possa provocare più focolai che ci sono in Italia e in Spagna. Quindi c'è troppo rilassamento da parte della popolazione? Allora guardi, io solo ho un atteggiamento di fiducia. Occorre attenzione ma anche fiducia. In questo momento i cittadini italiani debbono affrontare la ripresa delle attività economiche, delle attività sociali e culturali con tranquillità, con serenità. Ripeto, devono rispettare quelle poche regole di distanziamento, l'utilizzo di mascherina se non c'è distanziamento, ma poi la vita in Italia deve riprendere. Tutte le attività devono riprendere. Noi abbiamo potenziato la risposta del sistema sanitario, abbiamo fatto milioni di test sia molecolari sia sierologici. Abbiamo anche elaborato un piano di monitoraggio molto dettagliato che in questo momento ci consente di controllare tutte le aree territoriali, geografiche, anche molto circoscritte. Quindi sono fiducioso. Abbiamo tutte le condizioni per affrontare l'estate e anche l'autunno. E dopo l'estate cosa si aspetta? Beh, alcuni esperti, insomma, è un dibattito pubblico questi, ragionano di questo, ragionano di una seconda ondata. Io non lo so se arriverà a una seconda ondata, anche perché non sono un esperto, non sono un scienziato. E d'altra parte mi pare di capire che essendo questa pandemia, un nuovo virus, anche qui le previsioni sono un po' difficili. Dico semplicemente che se ci dovesse essere una nuova ondata, l'Italia è attrezzata per mantenere sotto controllo anche questa seconda ondata. Anche dopo l'estate c'è un altro evento politico, ci sono le elezioni regionali in Italia. Quindi lei ha in mente un ipotetico rimpasto di governo dopo queste elezioni? No, non vedo all'orizzonte un rimpasto di governo. Io sono soddisfatto della squadra dei ministri. Adesso stiamo lavorando, abbiamo appena approvato un decreto molto importante per l'Italia, un decreto semplificazioni che taglia la burocrazia, che consente di accelerare la spesa per gli investimenti. Sblocchiamo tantissimi cantieri, abbiamo in circa individuato 130 opere strategiche per le quali vogliamo correre molto speditamente. Abbiamo un piano di rilancio, dicevo prima, che abbiamo condiviso con tutta la società italiana, stiamo lavorando a questo, stiamo molto concentrati, non vedo rimpasti all'orizzonte. Comunque la sua popolarità è cresciuta tantissimo, quindi cosa le ha dato agli italiani in questo periodo? Sicuramente la popolarità è cresciuta rispetto al fatto che di fronte al lockdown le persone sono state in casa e quindi hanno aspettato le indicazioni che il Presidente del Consiglio dava, hanno aspettato, si sono collegate spesso a questi appuntamenti in cui, voglio dire, il Premier, quindi il Capo del Governo, di volta in volta spiegava con piena trasparenza alla popolazione qual era l'evoluzione della situazione epidemiologica e quali erano le misure che venivano adottate e devo dire la verità è cresciuto, forse in questo senso credo che quei sondaggi a cui le fa riferimento segnalano un rapporto di fiducia tra il Governo e i cittadini, ma la fiducia al di là dei sondaggi che poi lasciano il tempo che trovano è anche il fatto che i cittadini hanno rispettato le regole. La Comunità Nazionale Italiana ha offerto una reazione di grande responsabilità, coraggio, determinazione, si è sviluppato ancora di più, esisteva, ma era un po' latente, quel senso di appartenenza a una medesima comunità. Io sono stato orgogliosissimo e sono orgogliosissimo di essere il Presidente del Consiglio del Popolo Italiano. È una curiosità, perché per gli spagnoli questo non è molto comune. In Italia e in Spagna si ha detto negli ultimi anni che la politica italiana spagnola si stava italianizzando e lei è stato Presidente in un governo con Matteo Salvini, che adesso è il suo nemico, adesso forma parte di un altro governo. Quindi come le spiega questo a uno spagnolo dove diciamo che le ideologie sono più rigide? Ma in effetti, guardi, è stata una situazione singolare, occorrerebbe un po' di tempo per spiegare quel che è successo in Italia. Diciamo che a un certo punto, dopo la caduta del primo governo, che è stata una caduta voluta dalla Lega perché ha deciso di interrompere quell'esperienza e di andare alle elezioni, forte anche di un grande consenso nei sondaggi, quindi ha cercato di capitalizzare questo consenso, questo vantaggio elettorale, però siccome viviamo in Italia in una repubblica parlamentare, una democrazia parlamentare, chiaramente la decisione non può essere rimessa al singolo partito, non può essere rimessa a un singolo esponente di una forza politica. Quindi c'è stato questo passaggio parlamentare, proprio perché una democrazia parlamentare, io ho voluto che la crisi fosse discussa davanti al Parlamento, dove siedono i rappresentanti e il popolo. Da quella discussione è nata, da quei chiarimenti, è nata una nuova prospettiva politica, che a me personalmente ha sorpreso. Non mi sarei mai aspettato che potesse nascere una prospettiva del genere. In quel momento sembravano effettivamente, sembrava difficile poter dar vita a un nuovo governo. Quindi la prospettiva elettorale sembrava portata di mano. Però è anche vero che eravamo in piena estate, con la prospettiva di fare un turno elettorale, una competizione elettorale che ci portava poi ormai in prossimità di dicembre, con una legge di bilancio da approvare e non c'erano più i tempi. Quindi è stata una prospettiva molto drammatica. Ricordatevi che nel governo precedente l'Italia è andata sotto il rischio di procedura di infrazione per debito eccessivo per ben due volte. Sono riuscito a scongiurare questa procedura, ma con grandissima fatica. Quindi potete immaginare che arrivare al ridosso della legge di bilancio, non riuscire ad approvarla in tempo, significava esporre di nuovo il Paese a un grave rischio economico. E forse è questo che è stato il fattore che ha coagulato le forze politiche, il Movimento 5 Stelle ha dimostrato grande responsabilità anche il PD e le altre forze. Di qui poi non chiedete a me perché hanno ritenuto di conferire ancora una volta, di chiedere a me ancora una volta di accettare l'incarico di nuovo Presidente del Consiglio. Dovresti chiederlo a loro. E lei farà parte di una lista futura? No, io non lavoro per me. Io non sto lavorando, sto lavorando con grande impegno, sono onorato di svolgere questo incarico del Presidente del Consiglio come recita della Costituzione italiana con disciplina e onore. Fino all'ultima ora, all'ultimo minuto, lavorerò sempre per il bene comune, con grande spirito di servizio. Non sto lavorando per fare un mio partito. Presidente, la Spagna e l'Italia si mangia benissimo. E con quale piatto conquistariano i paesi frugali? I paesi frugali potremmo, vediamo un po'. Ci sono tanti piatti italiani che potrebbero piacere ai miei amici dei paesi frugali. Forse suggerirei loro di condividere un bel tiramisù. Così ci tiriamo su noi e tiriamo su l'Europa. Molte grazie. Grazie mille Presidente. È stato un gran piacere, grazie. Grazie mille Presidente. Grazie mille Presidente. Grazie mille Presidente. Grazie mille Presidente.